Morgan 2. Le anticipazioni della seconda puntata. Come abbiamo visto, la protagonista è stata sospesa dal suo ruolo di consulente della polizia. Ma nella seconda puntata, in onda alla prossima settimana, Morgan avrà la possibilità di riscattarsi. Deve frequentare un corso per poter riprendere il suo lavoro e adesso è importante più che mai, dato che non ha più neanche una casa e non può rimanere quindi senza uno stipendio. Nel frattempo, il poliziotto che la ospita si rende conto che è sempre più difficile vivere con Morgan e la situazione non migliora. È quindi necessario prendere un'altra casa in affitto affinché ognuno possa riappropriarsi dei propri spazi. Durante il corso, Morgan riceverà una strana telefonata che condurrà ad un omicidio. Nell'episodio successivo, quindi il quarto, si indaga all'interno di una fattoria. Ci si chiede, che fine ha fatto Valentin? Grazie. Grazie.